Incidente mortale sulla strada statale 417 per Caltagirone, dove si è verificato uno sconto tra una moto e un camion. L'impatto si è rivelato violentissimo e l'uomo alla guida del motociclo è deceduto. Non sono state ancora rese le sue generalità. Lo schianto è avvenuto all'altezza del km 66-800 nel territorio di Catania. È stata necessaria la chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati sanitari al 118, ma per il motociclista non c'è stato niente da fare. Sul luogo nell'incidente, anche le forze dell'ordine per effettuare rilievi e ricostruire la dinamica dello scontro. Si sono registrati forti rallentamenti al traffico. L'ANAS ha comunicato di essere sul posto per la gestione della viabilità e consentire il ripristino della normale circolazione dei mezzi.